buongiorno amici buongiorno amiche oggi siamo qui con apple pie torta di mele un box che per molto tempo ho inseguito finalmente ho in prova e vi anticipo spoiler che funziona molto bene pensate che da quando l'ho ricevuto ho già installato due aggiornamenti ota e oggi ho visto che ce n'è un altro pronto per essere scaricato e installato siamo a livelli non so io di pixel di di un iphone insomma mai visto un supporto così massiccio per un box figuriamoci anche per uno smartphone ve lo faccio vedere qui ci sono i led che stanno funzionando qui ho tolto uno sportellino c'è il vano per l'espansione della memoria e per inserire una sim dati vi anticipo che ha il gps integrato sotto c'è la dissipazione della del calore davanti non c'è non c'è niente quindi questa torta di mele vediamo come funziona qui è inserito alla mia auto radio attraverso la usb normale ma funziona anche se lo inserite nella usb c c'è il cavo in dotazione in questo momento stiamo utilizzando android auto in modalità wireless la mia auto vede come se fosse connesso un iphone in realtà è connesso un samsung con android 14 che è collegato all'automobile attraverso android auto in modalità wireless funziona tutto l'assistente vocale funziona previsioni meteo domani a firenze a firenze domani ci sarà il sole con una massima di 15 gradi e una minima di zero l'assistente vocale funziona non è una cosa scontata in certi box android ho avuto dei problemi invece con lui funziona e in generale vedete anche la grafica è buona non ci sono sfasature funziona tutto perfettamente usciamo da android auto che abbiamo visto che che funziona e siamo nel il launcher del box vedete queste sono le icone più grandi personalizzabili anche qui tutti i collegamenti rapidi vedete qui ci fa vedere che il gps integrato sta tranquillamente fissando usciamo vedete per telefonare dovete chiaramente utilizzare il qui è se fosse inserita una sim nel vano dell'apple pi qui vedreste qui avreste la possibilità di telefonare in questo momento io non ho inserito una sim né dati né chiamate ma adesso ci connetteremo a una sim che ho integrato nella mia automobile quindi ad apple pi potete telefonare o attraverso android auto o attraverso carplay wireless oppure inserire in apple pi una sim e a questo punto chiamare da qui ma deve essere inserita una sim che cosa che io non ho fatto quindi dovete telefonare da android auto sono connesso in questo momento con a 53 e credo che anzi sono sicuro che da qui posso chiamare non lo faccio altrimenti mi cadrebbe il video volevo farvi vedere una cosa che di cui mi sono accorto oggi guardate android 13 e incredibile vedrete che adesso qui mi darà un aggiornamento mi sono scordato di collegarmi alla wifi lo facciamo in diretta andiamo qui andiamo qui andiamo qui anzi bastava fare così vedrete che si collega la wifi della mia macchina e adesso torniamo alla home vedete si è già collegato velocissimo vedrete che mi pare che c'era anche oggi un collegamento un aggiornamento veramente mai vista una cosa simile su un box eccolo guardate anche oggi un altro aggiornamento guardate la data incredibile di 14 megabyte poi lo farò scarica installa ma io è già il secondo aggiornamento che faccio su questo box incredibile siamo a livelli di pixel qui è per andare su tornare su android auto qui il gps ve l'ho già fatto vedere qui ci sono tutte le app il play store quindi se avete delle app comprate potete trovarle qui sul play store queste sono tutte preinstallate io non ho installato nulla vedete vediamo questo per installare le app se avete qualche applicazione curata o birichina la potete installare da qui vedete sono tutte applicazioni preinstallate che però potete anche cancellare tra altre cose vedete se ci premo sopra e la mando qui su disinstalla lui me la disinstalla vedete com'è veloce quindi morale della favola questo box a mio parere è un best buy e nonostante io non abbia il top di gamma poi perché questo qui non è il top di gamma dell'apple pi io ho 4 giga di ram e 64 gigabyte di memoria interna ma ce n'è anche uno di superiore a lui anche lo snapdragon mi pare che si chiami max questo modello ma ve lo metterò in descrizione la dicitura esatta però nonostante io non abbia il top di gamma ha prestazioni a top di gamma perché ha il gps integrato ha lo slot per la sim che non sempre non sempre c'è è fluido ha gli aggiornamenti non dico tutte le settimane ma anche più a settimana voi ditemi cosa ci può volere più da un box ha veramente tutto io ve lo consiglio assolutamente vediamo youtube che di solito è più richiesto chiaramente funziona anche in movimento ma vedrete che funziona adesso ci sarà pubblicità perché non c'è la versione curata comunque vedete anche la pubblicità il video funziona tranquillamente schippiamo la pubblicità ecco qua vedete perfetto fluido chiaro audio ok veramente un box che vi consiglio quindi viva apple pie bravi bravi bel software aggiornamenti costanti fluido e finalmente direi che siamo arrivati al box perfetto ciao a tutti